Carburanti prosegue l'attività di controllo delle fiamme gialle del comando provinciale di Monza, volta a contrastare pratiche scorrette, manovre speculative e traffici illeciti in materia di accise. Le ultime indagini si sono concentrate in particolare sui gestori di alcuni distributori di carburante per autotrazione. Ammontano ad oltre 13 mila euro le sanzioni combinate su tutto il territorio provinciale dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza, del gruppo di Monza e della compagnia di Seveso. Dopo le violazioni già contestate a febbraio sono stati individuati altri 11 impianti irregolari sia in ordine alla corretta pubblicità dei prezzi e della loro esposizione al pubblico, sia all'avvenuta comunicazione periodica dei prezzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Quattro i gestori di stazioni di servizio sanzionati in materia di pubblicità ed esposizione prezzi per mancata conformità dei cartelloni alle prescrizioni del codice della strada, omessa indicazione del prezzo della modalità di erogazione del servito, ovvero per mancata esposizione in modo visibile dalla carreggiata stradale dei prezzi praticati al consumo. Sono invece sette le violazioni constatate in capo a distributori stradali, promessa comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipo di carburante commercializzato. Inoltre i finanzieri hanno intercettato un camionista alla guida di un'autocisterna per trasporto carburanti riconducibile a un imprenditore brianzolo che trasportava 600 litri di gasolio per riscaldamento senza l'idonea documentazione giustificativa ai fini delle accise. Sia il combustibile che l'autocisterna sono stati sequestrati, denunciati il camionista e l'imprenditore.